Siamo con Sabrina Vallesi, dirigente dell'Istituto Fazzini Mercantini, dislocato tra Grotta Mare e Ripalanzone. Qui precisamente siamo al Fazzini di Grotta Mare e abbiamo cercato di capire in che modo gli istituti si stanno organizzando in virtù dell'epidemia Covid che tanta pressione e tanti lutti ha causato anche in Italia oltre che in tutto il mondo. La scuola è uno dei punti nevralgici della società italiana e molti riguardi si stanno studiando per evitare che i contagi possano aumentare creando i problemi che conosciamo. Qui siamo in un'aula, quindi magari abbiamo anche visto nelle fotografie che posizioniamo a lato in che modo avete pensato di distanziare i banchi. Dunque, la nostra prima preoccupazione, grazie per questa domanda, è stata quella di ricreare nell'aula la possibilità per i ragazzi di individuare immediatamente il distanziamento sociale. Lo abbiamo fatto ubicando ogni banco monoposto e segnalando a terra l'esatta occupazione dello spazio, in modo che i ragazzi potessero rimanere secondo il distanziamento di un metro dalle rime buccali e un distanziamento invece di due metri tra il docente che fa lezione e i ragazzi stessi. Ovviamente quando i ragazzi non riescono a mantenere il distanziamento sociale perché appunto si debbono alzare, indosseranno di nuovo la mascherina così come fanno quando accedono all'aula o quando escono dalla stessa. Voi avete la fortuna di avere delle aule abbastanza grandi, come vediamo anche questa sullo sfondo c'è molto spazio per i banchi delle aule grandi e quindi di poter svolgere la didattica tutta in presenza. Vi state però in qualche modo aiutando con la tecnologia anche per la didattica che era a distanza, ma adesso una didattica digitale integrata. Di cosa si tratta e in che modo agisce questo tipo di insegnamento? La didattica digitale integrata è una didattica mista che prevede la didattica in presenza, ma anche la didattica che abbiamo chiamato durante il lockdown a distanza appunto. La possibilità di utilizzare le nuove tecnologie è una ottima soluzione, per esempio per raggiungere alunni che per qualche difficoltà, patologia, hanno bisogno di un'assenza protratta nel tempo dalla scuola. Ad esempio sto pensando che attraverso la didattica digitale integrata riusciamo anche a sopperire a quella che una volta si chiamava l'istruzione domiciliare laddove ci sono degenze di un periodo piuttosto lungo. Questo capita con alcuni dei nostri studenti, li stiamo aiutando perché appunto le nostre aule sono fornite oltre che di pc e di schermi, anche di telecamere attive, per cui attraverso la connessione del ragazzo, noi utilizziamo in particolare la G Suite, i ragazzi possono essere presenti anche se solo virtualmente alla lezione che si svolge in aula. Grazie.